Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di non aprite questo blog Sto tornando dall'anteprima stampa di Suspiria Volevo fare un video reaction così perché so che tanti di voi sono curiosi Scusate se magari l'inquadratura non è il massimo, se è buio Eh, andiamo al film, allora non vi posso spoilerare nulla Anche perché poi voglio fare un video recensione, faremo una recensione iscritta Ragazzi, io sono ancora frastornato perché questo qua è un film meraviglioso È un film meraviglioso, è un film potente, un film che veramente c'è Guadagnino ha messo in piedi un film veramente sofisticato, veramente coraggioso, potente, emozionante A me mi ha travolto veramente, mi ha davvero travolto Questo remake non è stato fatto per portare le masse di pubblico al cinema Come si fa con i vari franchise, The Ring, tutte queste cose qua, The Conjuring Questo è un film fatto per fare un bel film Non è fatto per piacere con piacere, è un film con i suoi tempi, lungo Da seguire ma con momenti epici, con momenti fantastici Ve ne parlerò nel dettaglio più avanti Uscirà l'1 gennaio, ma io lo considero comunque un film del 2018 Quindi rientrerà nel video che farò Dedicato, farò un video dove sceglierò il miglior film horror del 2018 I due candidati sono la casa delle bambole ereditari E ci aggiungo anche Suspiria di Guadagnino Quindi guardatelo Niente, iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei video E mettete like se il video vi è piaciuto Buonanotte Cliccate sulla campanella